Buon pomeriggio, buonasera a tutti! Vieni qua! Mamma mia, mamma mia, di emozione! Ciao, ciao! Torna all'eredità Fabrizio Frizzi! E' stato accertato che Tutankhamon aveva gli occhi verdi. Vero o falso? Vero. Eh no, purtroppo è falso, perché all'epoca dei faraoni la fotografia non era stata ancora inventata. Grazie a tutti!